silenzio d'attesa in questa sala troppe volte vista troppe volte vissuta con ansia nel cuore ed un gruppo alla gola silenzio d'attesa vagamente interrotto da rumori di sfondo porte che si aprono si richiudono gente che aspetta come noi chiusi nei propri pensieri troppo stanchi forse per socializzare un'umanità che soffre raggruppata in questa stanza troppo angusta anche per respirare mentre il tempo sembra fermarsi su questi volti con una velata speranza sulle labbra strette che accendano forzati sorrisi silenzio d'attesa ironicamente interrotto dal giro ciclistico trasmesso sullo schermo là in alto ma nessuno lo segue e il tutto diventa un monologo tecnologico mentre il giro prosegue in questa sala ancora si attende tra rumori di sfondo porte che si aprono si richiudono gente che aspetta come noi chiusi nei propri pensieri troppo stanchi forse per socializzare una umanità che soffre e a labbra strette accenna forzati sorrisi di speranza maria rita sodano 22 maggio 2013 grazie 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 grazie